Ed ora un altro gruppo di tastieristi, invitiamo Raffaella Cassano, Bruno Floro, Floriana De Jure e Michelangelo Fadia Ciao, tu ti chiami? Tu sei? Raffaella Cassano Quanti anni hai? 17 Perché non lo vuoi dire? Tu ti chiami? Floro Bruno Floro Bruno Tu? Floriana De Jure, 15 anni 15 anni Fabi e Michelangelo, 17 anni Benissimo, li ascolteremo in un brano molto simpatico da titolo Patrissa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti